Ciao a tutti, domani è il compleanno di quella biondina lì, compie quattro anni e come regalo ha scelto di andare in piscina l'acqua splash che in realtà è l'acquarius di Luviana, siamo in macchina e ci stiamo andando e poi vi faremo vedere com'è, giusto? Ci vediamo tra un po', ciao! Vi ricordiamo che per viaggiare in autostrada slovena vi serve il pollino e qua sono molto severi coi controlli, quanto costa il pollino? Costa 15 euro per una settimana, 30 euro per un mese o 110 per tutto l'anno. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Eccoci qua, dovevamo andare in piscina ma purtroppo Anais ha una brutta febbre, ma non importa, ci torniamo vero in piscina e vi facciamo il video. Adesso decidiamo cosa fare, intanto facciamo tantissimi auguri a Anais! Come regalo si è scelta la casa di Frozen e la casa di montagna di Playmobil. Vero? Dopo andiamo a casa a costruirli. Io Playmobil! Tu Playmobil! E a questo! Bellissimo! Bellissimo! Ci vediamo dopo amici? Sì! Sì! La tua prima colazione da quattro anni? Sì! La prima colazione da quattro anni, guardami! Sto, 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 sto faccio e dopo andiamo a casa! Poi andiamo a casa perché hai la febbre! Canta tantea butterfly anais! Brav amore! Anais vuoi vedere? siamo andati a prendere un po' di decorazioni per consolare Anais e adesso cambiamo programma e andiamo alle grotte seguiteci che vi facciamo vedere è bellissimo ecco tutti siamo arrivati alle grotte lassù è la stazione di treno per andare dentro le grotte guardiamo il partizio è là le grotte sì, lassù c'è la stazione cambia di programma siamo alle grotte di Postumia ciao 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 Ancora papà era molto piccolo quando è stato qua e adesso è lorenzo piccolo vai alle grotte col trenino per il compleanno di chi? di Anais che meraviglia che bella giornata guarda Anais hai visto che meraviglia ti guardano i pesci per farti gli auguri quanti anni compi hai dimenticato un dito e anche con la febbre Anais è super sorridente non ti fanno paura? no fanno paura le grotte sono belle cosa faccia? che cosa faccia? mi piace mi piace mi piace la prima vuole è grande mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace è una volta Andiamo a fare i biglietti, ecco i prezzi, allora gli adulti sono 31 euro e 80, le grotte e il vivarium, oppure le grotte e l'esposizione. I bambini dai 6 ai 15 anni sono 19 euro e 10 e i due piccolini, guarda Anais non paga e anche Lorenzo, comunque ci sono diverse formule che si possono scegliere, noi abbiamo scelto uno e due, uno più due sì, andiamo a pagare? Andiamo, abbiamo fatto i biglietti. Quindi adesso andiamo nell'expo, eccola qua, inclusa nel primo biglietto, abbiamo scelto questa, sono le 11.10 e abbiamo il trenino a mezzogiorno. Grazie. Hai capito come funziona, Sofì? Grazie. Sì, quando arrivi nei punti schiacci il numero. Hai schiacciato il 3? Mi schiacci il 3 qua. Cosa dice? Ho iniziato al 3, qui è il 4, qui bisogna schiacciare 4. Alla prossima. E io so Ma Scusate guarda lori guarda l'acqua si dobbiamo andare là guarda l'acqua finta vediamo anche mamma schiaccia italiano la la sulla sullo schermo io sto credo la gratta vieni qua oh la la è lì il cosmo vediamo dritta 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 vediamo la quattroenne quanto è alta cento quattro cento quattro come togliati le quattro quanti ha reso però cento venticinque cento venticinque sino tredici lorenzo come titi qua mazzino con la testa che papà ti misura dritto dritto lì girati vediamo quanto dritto con la testa oh mamma via spostati amore via mamma se schiacci si vede schiaccia schiaccia lì che si vedono le cose schiaccia i pulsanti blu con titi guarda se schiacci si accende guarda qua schiaccia che si accende guarda qua iniziamo schiaccia guarda portate schiaccia spostati chiaccia schiaccia ci sceglie spostati piaccia po piaccia 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sono proprio quelle che abbiamo visto a casa del portale Bordani, e quelle belle? Allora, non mi scusa, sono tutte le coste. Queste gialle. Guarda che giganti, guarda quelle che belle. Ma quelle le abbiamo viste, sì? Sì. La mia preferita è... Quante parti sono? Quante parti sono? Mi si vedi qua, vedi? Quante parti. Allora, è un as滑 che so la past一点. Cap 2030. Ja! Questo poi è un lúpio. Si puòrire. Continuare. Ora. Trappi divino le viste. Èؤ cliff. Non Ma Sofì C'è modo di passare una bella giornata Bella idea Anaïs venire alle grotte per il tuo compleanno vero? Adesso andiamo sul trenino Questo è un altro ristorante Sì, self service Eccole Non buttarlo giù Sofì Guarda quante bandiere Quella del Belgio c'è? Sì, la seconda? Il Belgio è la terza Annalisti hanno fatto gli auguri Andiamo dentro Guarda che lungo! Mamma mia, è come Disneyland Hai visto che lunghissimo trenino? Quindi come ci dividiamo? Vai avanti Sono divisi per lingue Noi dobbiamo andare con quello di italiano Giusto? Giusto? Sì Guarda inglese Guarda! 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 Grazie a tutti. 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 Sì, vi consigliamo di entrare con i passeggini, sennò vi spaccate la schiena, vero? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.